Gabriele del Grande farò lo sciopero della fame, il regista lucchese in stato di fermo in Turchia telefona alla compagna e chiede una mobilitazione in suo favore. Il pienone per Pasquetta esultano albergatori e commercianti versiliesi per l'invasione dei turisti sulle spiagge nel lunedì dell'Angelo. Una scarrozzata contro le barriere architettoniche arriva anche a Lucca l'evento di educazione alla disabilità già sperimentato in altre città italiane. In mostra ai 50 anni del Passaglia a Palazzo Ducale un'esposizione dedicata al mezzo secolo di vita del liceo artistico e musicale. Lo sport Gesam brucia Venezia 1-0 e palla al centro, le biancorosse e gli diamanti battono le venete 77-61 in gara 1 della semifinale Scudetto, domani sera si replica ancora al palatagliate. La lucchese a Cremona per ripetere l'andata, rossoneri di scena sabato a Lozzini sul campo della neo capolista del torneo. Compito durissimo anche se provarci non costerà nulla. Al Porta Elisa si impose la Pantera 1-0. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi. Parliamo della vicenda del regista lucchese Gabriele Del Grande in stato di fermo in Turchia ormai da nove giorni. Questo pomeriggio del grande è riuscito a chiamare telefonicamente la compagna e a riferire di star bene ma di aver intenzione di iniziare da questa sera lo sciopero della fame. Sentiamo. Il regista lucchese Gabriele Del Grande, detenuto in Turchia, inizia lo sciopero della fame e invita alla mobilitazione per il suo ritorno in Italia. Dopo nove giorni di silenzio del grande è riuscito a contattare la sua compagna e la notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook Io sto con la sposa, dal titolo del film che realizzò un paio di anni fa sull'emigrazione in Europa. Gabriele ha riferito alla compagna di essere riuscito a telefonare solo dopo molti giorni di protesta e di poter parlare solo sotto diretta sorveglianza di quattro poliziotti. Mi hanno fermato al confine, ha detto Del Grande, e adesso sono al centro di identificazione ed espulsione di Mugla in regime di isolamento. I miei documenti sono in regola, ha detto ancora il regista, ma non mi ha permesso di nominare un avvocato, né mi ha dato sapere quando finirà questo fermo. Hanno sequestrato il mio telefono e le mie cose, sebbene non mi venga contestato nessun reato. Del Grande ha riferito che la ragione del fermo è legata al contenuto del suo lavoro e di aver subito ripetuti interrogatori a riguardo. Non gli era stato nemmeno detto che le autorità italiane volevano mettersi in contatto con lui. Da stasera entrerò in sciopero della fame, ha concluso Del Grande, e invito tutti a mobilitarsi per chiedere che vengano rispettati i miei diritti. Del Grande è nato e vissuto a Capannori. Attualmente abita in Grecia. La sua famiglia adesso vive a Panicagliora, nel comune di Pescia, dove gestisce anche un ristorante. Colpo di coda dell'inverno. Nelle ultime ore la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana per l'arrivo di un fronte freddo che porta un rinforzo del vento di Grecale. Rovesci sparsi sulle zone interne e nevicate in appennino fin verso i 1100-1200 metri. Seguirà un deciso calo termico con la possibilità di locali gelate anche mercoledì e giovedì mattina. In particolare l'intensificazione del vento di Grecale potrà portare a forti raffiche, 40-50 km orari in pianura, 60-70 km orari in montagna e lungo la costa. Il codice giallo, che è già valido, terminerà alle 13 di domani, mercoledì 19 aprile. Era soltanto ieri il giorno di Pasquetta con il sole e temperature alte sopra la media stagionale. Infatti esultano gli operatori turistici versiliesi per l'invasione dei turisti che si è verificata sulle spiagge della Versilia. La Versilia piace ai turisti, specie a quelli stranieri. Lo dimostrano le cifre del record delle presenze per queste vacanze di Pasqua che evidenziano come non solo le città d'arte e i luoghi più noti del bel paese siano mette sempre più gettonate, ma anche i luoghi della nostra costa e dell'entroterra vengono scelti con sempre maggiore frequenza e da un numero crescente di persone. Tanto sole e tantissimi turisti hanno scelto la Versilia per fare il primo bagno in mare, gustarsi un piatto di spaghetti con le arselle fresche e per fare shopping, soddisfatti albergatori e categorie economiche. Gli italiani si sono mossi e devo dire che c'erano anche abbastanza stranieri sulla nostra costa vestiliese, non sono mancati. Naturalmente bisognerebbe implementare anche il turismo sportivo che ci potrebbe dare una diversificazione delle presenze proprio per questi momenti di Pasqua dove gli stranieri soprattutto hanno delle ferie diverse dalle nostre e quindi si muovono per un periodo più lungo rispetto a quello degli italiani che è soltanto per i due giorni molto stringati. Tutta la Versilia si è risvegliata, ha cominciato la nuova stagione balneare estiva quindi con un grande successo per tutte le attività produttive e commerciali del nostro territorio, non solo per gli alberghi. Moltissima gente a Via Reggio e questa è la dimostrazione che a Via Reggio anche se non si fanno eventi, la gente viene lo stesso perché è la città stessa di essere un evento, basta tenerla col decoro e l'attenzione giusta per il turista. La cronaca a Lucca, un incidente stradale a Pontetetto con un movimentato dopo incidente, vediamo. Incidente stradale con litigata finale sulla Via Perpisa a Pontetetto, a pochi metri dal ponte dell'autostrada. A scontrarsi sono state un'auto guidata da una donna e una bicicletta sulla quale stava viaggiando un professore in pensione, residente proprio a Pontetetto. L'auto ha urtato la bici con lo specchietto e l'anziano è finito a terra. Sarebbe svenuto per qualche secondo ma poi ha ripreso conoscenza. Per terra è rimasta la verdura che l'anziano stava trasportando in un sacchetto. I minuti immediatamente successivi all'incidente sono stati un po' movimentati. Secondo alcune testimonianze rese alla Polizia Municipale di Lucca, l'ambulanza arrivata sul posto è scivolata con le ruote sulla verdura rimasta sulla strada, arrivando pericolosamente vicino all'anziano rimasto a terra e alle persone che si erano radunate intorno a lui. Da qui sarebbe nata una discussione tra il personale del mezzo di soccorso e un'infermiera professionale in pensione che, trovatasi lì per caso, stava assistendo l'anziano. Dalle parole si sarebbe passati alle spinte e l'infermiera sarebbe pure finita a terra. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Municipale di Lucca, che probabilmente dovrà sentire anche la versione del personale di soccorso. Alla fine comunque l'anziano è stato trasportato all'ospedale San Luca in codice giallo, quindi non in gravi condizioni. Avrebbe comunque subito un trauma cranico. Ovviamente l'abbiamo già detto nel servizio, le responsabilità dell'incidente e le eventuali responsabilità del dopo-incidente dovranno essere stabilite dalla Polizia Municipale. Rimaniamo a Lucca per parlare di una iniziativa, la scarrozzata, che mira a far capire a tutti le difficoltà che ogni giorno devono affrontare le persone disabili. Una passeggiata in carrozzina per capire cosa significa incontrare da disabili le barriere architettoniche, vivendo per un'ora in prima persona questa situazione. Questa è l'idea che sta alla base della scarrozzata, evento già sperimentato in varie città d'Italia ed in programma per la prima volta a Lucca, sabato 22 aprile. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione di Testamia in collaborazione con il Comune di Lucca, Ottobocche e Ortopedia Michelotti, che hanno fornito le sedie a rotelle, è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Orzetti. Presenti il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore al sociale, l'area vietina e Mario Ghianda, rappresentante dell'Associazione di Testamia, che ha spiegato l'origine e lo scopo della manifestazione. L'iniziativa è nata anni fa da un'associazione di Bologna che si occupa di promuoverla in tutta Italia. Noi siamo riusciti a portarla a Lucca anche con l'aiuto del Comune e l'obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica delle barriere architettoniche, mettendosi nei panni degli altri attraverso quindi una logica esperienziale positiva e quindi di andare a vedere gli scalini e le difficoltà che ci sono da un punto di vista diverso rispetto a quello che una persona normodotata avrebbe abitualmente. Quindi le persone normodotate potranno fare una passeggiata nel centro storico di Lucca, seduti su sedie a rotelle, un modo per riflettere sull'abbattimento delle barriere architettoniche e su una necessità di rendere più accessibili le città e in un certo senso anche le menti delle persone. Sempre a Lucca la mostra dedicata ai 50 anni del liceo artistico Passaglia. 50 anni rombanti, si intitola così la mostra allestita nella sala Tobino di Palazzo Ducale dedicata al primo mezzo secolo di vita del liceo artistico e musicale Passaglia di Lucca. E per celebrare questo importante compleanno il liceo ha voluto raccontare le storie individuali dei suoi allievi, esponendo i lavori di coloro che hanno continuato gli studi o hanno intrapreso la carriera professionale rimanendo nel mondo della creatività. In sostanza agli ex studenti è stato chiesto di inviare un'opera. I lavori sono stati poi esposti in spazi tutti uguali, in un allestimento denominato la Casa dell'Arte della Città. All'appello del Passaglia hanno risposto in 120 ex alunni. 120 di varie discipline perché la richiesta era quella fateci vedere cosa fate ora dopo aver fatto il liceo artistico. Quindi abbiamo chi dipinge, chi fa l'illustratore per riviste internazionali, chi fa oggetti, chi fa gioielli, chi fa architettura eccetera. Quindi un ambito di creatività molto ampio. Le opere esposte entreranno a far parte di una collezione permanente. La mostra rimarrà aperta dal 19 aprile al 4 maggio. L'esposizione è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, della provincia e della CNA, con il patrocinio del Comune di Lucca. È tutto per questa prima parte della TG. Adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.